La maggior parte dell'attenzione rivolta ai giochi olimpici è collegata al Tibet, certo questo è molto diverso da quello che era soltanto qualche mese fa, laddove l'accento del posto sul Darfur. Io ho portato due atleti olimpici più di sei mesi fa in Cina e pensavamo che potesse essere molto difficile da un punto di vista di relazioni pubbliche e anche per quanto riguarda i diritti umani relativi a Darfur che è stato di più, ma questo può sicuramente essere un problema, non vogliamo minacciare nessuno, non vogliamo minacciare di boicuttare i giochi, ma certamente è un'affermazione da essere resa esplicita e chi protesta in questo modo oggigiorno sostiene i diritti umani e credo che sia giusto, naturalmente sempre che ciò non porti a alcun atto di violenza. Sarà molto interessante naturalmente sapere quale sarà il risultato perché anche noi come voi siamo in fase di elezioni, noi speriamo che i giorni come quelli di Darfur siano ormai veramente finiti, dobbiamo continuare però a parlarne perché ci sono tante altre cose terribili che avvengono anche nel sud del Sudan, dove io mi sono recato solo due mesi fa in Chad, la situazione è terribile così come anche nella parte orientale e nel sud di quella zona. Noi speriamo che tutti i governi facciano ciò che in realtà in teoria fermano di vuole fare, ovvero mettere a disposizione fondi per poter proteggere almeno le forze ONU in locale, in maniera tale che si possa procedere in maniera protetta anche come i caschi blu in Darfur, noi stiamo facendo questo, l'unica nazione che ha fornito gli elicontri è stata l'Etiopia purtroppo, non ci sono state altre manifestazioni di questo senso, però io ho avuto molto spesso modo di parlare con Veltroni, abbiamo un interesse comune verso l'Africa, è stato di grande aiuto proprio per cercare di portare avanti alcune di queste azioni in Italia, io mi sono anche incontrato con altri eminenti esperti, Bernard Cusciani in Francia ed altri proprio a questo fine, quindi io mi auguro che finalmente noi si sia giunti al momento in cui queste azioni fanno una differenza. dietro a voi ci sono centinaia di persone con le mani alzate e come si sentono spavancate e adesso prego anche domanda sul film, tornassimo sull'argomento del film. Tante domande insieme, allora, li facciamo ridere o piangere? Allora, bisogna scegliere? Sì, sì, scegliamo. No, lo facciamo allora così, andiamo a vedere se per caso riusciamo a farle ridere. Allora, io ho un grosso legame con Como, forse la cosa migliore che ho fatto in vita mia è il fatto di venire in questo paese e tutte le volte che atterro qui sono contento, sono veramente contento. Per quanto riguarda l'ambiente, sappiamo che il lago deve essere ripulito e speriamo che si riescono a fare, però non ho visto dove era lei, dove era lei, che posso la domanda? Eh, mi scuso, mi scuso perché stavo guardando l'altra parte, ecco, mi scuso. Mi scuso, mi sono dimenticato questa parte, sì. Abbiamo bisogno di regole, chiaramente, sì, ma mi piace vedere che le persone riescano a violarle costantemente, e questa è la cosa divertente, e ovviamente a te piace aiutarli a farlo, giusto? Ma mai in Italia, mai, mai, solo in certi posti come la Francia, la Germania ovviamente, ma mai, 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 mai in Italia. È un qualcosa che io ho deciso di fare privatamente con la mia associazione, perché l'associazione all'epoca stava per iniziare il suo sciopero, e adesso non so come sia successo, ma è diventato di dominio pubblico. Io spesso sono dispiaciuto di molte delle cose che ho fatto, ma non di questa mia scelta, non lo sono. Ah, forse anche questo dovrebbe farti spiacere. Sì, 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 forse sì. Allora, mi sono dimenticata, quante domande sui giornalisti, sì, sì. Io non vorrei fare il vostro lavoro, e vi dico anche perché. Non vorrei avere la responsabilità di dover negoziare il modo in cui noi dobbiamo porre le informazioni sui mezzi di comunicazione internazionale, anche se questa professione mi affascina, per esempio se c'è qualcuno che ha una buona idea, però oggi purtroppo sappiamo che non bisogna substanziare l'informazione, molte volte ci sono come viste sull'integrità delle parole scritte per fare dei soldi, e questo lì crea dei problemi. Come membro della società, non tanto come persona pubblica, perché se noi diamo valore alla verità, che cosa diamo valore, veramente. Io non vorrei nemmeno avere la responsabilità di prendere delle decisioni a livello personale di avere un impatto molto negativo sulla vita di qualcun altro, perché la mia responsabilità è quella di dire la verità. Non mi piacerebbe prendere questa decisione, è un lavoro molto difficile, soprattutto adesso. E allora, la mia opinione dei giornalisti? Bene, voi dovete sapere che le parole difficili per il giro, e sono grata a tutti voi, e spero che non abbiate paura e continuerete a lavorare, perché il vostro lavoro è veramente molto importante, è quello che veramente penso dei giornalisti. E' una domanda. Allora, allora... mi si diceva, io si dicevo di matrimonio, quando ho girato a Siviana, io non volevo diventare un'agente della CIA, sapete, quindi più che non direi di passare alla domanda successiva. non vorrei assolutamente trasformarmi in quello che sono poi il... quello che è il finale dei miei personaggi e dei film. La realtà e il film, nel mio caso personale, non si sono ancora incontrate. Se è successo, non me l'hanno detto, mi piacerebbe da morire, però non lo so. E all'università, ma... non ci sono stato a sufficienza per ricordarmi bene di quanto si è successo in quegli anni. E' lo stesso, anche se ci fosse rimasto lungo. Comunque, come primo anno, sono stati i miei migliori sette anni, per così dire, nella mia vita. No, però, per essere serio, non mi sono mai trovato in questa situazione. Che succede? le luci si sono abbassate? No, non ci ho pensato affatto. Questa è una commedia, non è assolutamente un affetto alla pace. Ma in generale, l'idea del militare, cioè Joe McCartney non è un militare, ma praticamente come un segretatore con cui si litiga sul paese. C'è per esempio un film How to Conquer Heroes, cioè come fare degli eroi, come proteggerli. Sono sempre cose interessanti da analizzare, però non volevamo farlo. Volevamo semplicemente far vedere questa figura, in questo caso, ma questo è un film che è una commedia, è un film leggero.